Mi basterebbe non perdere, sono già contento così. Assolutamente non abbiamo nessuna pressione, non bisogna vincere per forza. Il Suttirol in questo momento è una delle squadre più forti, ma non lo dico io. Se ho visto le ultime tre partite, in tre partite non ha subito neanche un tiro in porta. È una squadra fortissima, è la peggiore da affrontare in questo momento. Domani metto la firma per non perdere la gara. Questo è vero, non possiamo sempre andare sotto perché non puoi sempre recuperarla, perché rischi di prendere il contropiede che ti apri, poi subire il 2-0 e diventa dura. Dobbiamo diventare bravi a non subire gol, o quantomeno farlo prima noi e poi vedere cosa succede. Perché raramente siamo andati noi in vantaggio e l'abbiamo gestito in una certa maniera. Domani il Teramo deve fare un tipo di gioco, quello che sa fare è aggredire e ripartire velocemente. Questo più che mai. Magari lasciando qualche opportunità loro di contropiede con Giasi e Costantino, che sappiamo che siamo bravi. Però dobbiamo cercare con i centrocampisti di più, alzarci quei 10 metri in più di baricentro, aggredirli di più e ripartire velocemente. Perché se aspettiamo e non ripartiamo veloci, i loro sobravi, con i tre difensori che stanno molto stretti e i due esterni che tornano molto, formano questa cernina di cinque giocatori e diventano impenetrabili. Lui per ora sta facendo un lavoro straordinario, sta facendo molto bene, c'è una sua impronta di una squadra che bene o male inizialmente si poteva pensare che non fosse così preparata. Invece ha trovato, anche all'inizio ha fatto un po' fatica, a Coppital e tutto il sistema di gioco. Lui ha trovato questo sistema, 3-5-2 anche lui, e sta facendo rendere al massimo i giocatori. La sua bravura in questo momento, e secondo me non è una bravura solida in questo momento, anche futuristica, di mettere i giocatori nel miglior modo possibile, indipendentemente dal sistema di gioco, quindi secondo me ha già delle buone idee e potrà fare molto bene. Lo conosco come ragazzo, non lo conosco bene, insomma, perché comunque quando lui era il toro io giocavo, io allenavo, insomma c'è qualche anno di differenza e quindi dalla sua c'è un'età importante, giovane, che può veramente fare molto bene.